Ciao amici di Fantapazzo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video che è comunque di avvertimento per le prime giornate, per quello che succede anche in Coppedale. Esce prima della prima giornata, quindi in realtà è preventivo, ma vuole spiegarvi quello che è successo. Adesso potrei andare anche negli anni passati, però insomma non vorrei annoiarvi e vi faccio vedere solamente quello dell'anno scorso. Adesso vi farò vedere le prime tre giornate dell'anno scorso, che saranno comunque, per far capire che sono indicative, in alcune cose, in molte altre no. Però non vi ho messo quella della Coppa Italia l'anno scorso, perché comunque alcune indicazioni sono valide, ad esempio il Genoa segnò con Basquets, che poi tra l'altro all'inizio non giocava a titolare, Retegui Doppietta, che poi in realtà non ne ha fatti tantissimi, e Gudmundson anche. Ad esempio il Sassuolo vinse a fatica a Cosenza, cioè vinse 5-2, ma vinse a fatica perché vinse i supplementari, segnavano Mulattieri, Seide, nel Verona segnavano Boulat, Davidoviz, anche che comunque normalmente non segna tantissimo, tra l'altro giocava a centrocampo. La sanità della Candreva, insomma, segnava anche la prima giornata, dopo lo vediamo. Comunque tante piccole indicazioni, Amquist nel Lecce, che segnava anche lui alla prima giornata, e quasi solo alla prima giornata. Quindi, per cosa nasce questo video? Per dirvi, attenzione, sia se iniziate la prima giornata, sia se, quindi facili entusiasmi, scambi, voglia di scambiare, voglia di prendersi quello che ha fatto Doppietta la prima giornata, che poi magari non segna più, oppure fregate il vostro avversario, dandogli un giocatore che magari ha segnato la prima giornata, e sfruttando l'hype, se inizia dalla quarta, magari, insomma, negli ultimi anni ho sempre visto, ah, questo giocatore adesso schizzerà alle stelle, magari schizza veramente alle stelle, e poi, dalla quarta giornata in poi, non segna più, e o comunque già le sue prestazioni sono negative, molto più negative rispetto alle prime tre, e magari sì, segna, ma insomma, le medie voto sono comunque non entusiasmanti come le prime tre. Perché, insomma, due anni fa, ad esempio, Corazza segnò nelle amichevoli e segnò la prima giornata a Verona, e poi abbiamo visto cos'era Corazza, quindi, sono forvianti a volte, non lo sono in tanti altri modi, l'anno scorso il Bologna iniziò con il Cesena, segnò Corazza, forviante, perché purtroppo è, non ha mai giocato, forse perché era giovane italiano, però segnò anche il Zipze, anzi, magari, se volete, se non ve lo ricordate, andatevi a vedere il, il gol che fece il Zipze l'anno scorso, però Zipze, anche lì, segnò in Coppa Italia, un gol pazzesco, ma su Zipze non c'erano mai stati dubbi, per chi lo conosceva, mi piaceva tanto vederlo nell'Underlecht, dove giocava con, con Kwame davanti, e, è un giocatore che, comunque, di qualità ne aveva sempre avuta, il problema suo era la testa, il problema suo era la testa che lo pensava anche il Bologna, perché se torniamo un attimo indietro di 24, di 12 mesi, in questo periodo, più o meno, Ferragostano, la Bologna cercava un attaccante, perché, anzi, aveva ancora Arnautovic, perché ancora non era andato all'Inter, infatti, giocò con la partita di Coppa Italia, e però cercava un attaccante, cercava un attaccante per sostituire Arnautovic, e invece poi si è trovato a Zipze, è stato meglio per tutti, meglio per, per chi l'ha avuto al Fantaraccio, è meglio, ovviamente, anche per il Bologna. Quindi, dico fuorbianti, non vi parlo della Coppa Italia di adesso, insomma, al di là di Gaspar, prendetelo, lasciate Baschirotto. Però, a parte questo, non, non, faremo poi, magari, un video sulle prime giornate, anche lì, qualche, magari, dopo la prima giornata, vediamo un po', come riusciamo, che indicazioni avremo, perché possono essere interessanti, magari, anche dopo la seconda, insomma, in base al mercato. Vi faccio vedere, insomma, vediamo un po' di immagini, o meglio, di risultati, anzi, mi sposto, mi tolgo. Questa è la prima giornata dell'anno scorso, in realtà manca il Verona che vince a Empoli, gol di Bonazzoli, che non ha, non ha, non ha fatto poi più, ha fatto poco altro, Frosinone-Napoli con il gol sul rigore di Arrui, vedete qui, ad esempio, gol di Biraghi, i gol di Biraschi nel Genoa, che poi è andato via, Buonaventura, sì, certo, poi anche ci sono i gol di Lautaro Martinez, ci sono i gol di altri giocatori, comunque, De Keteler, che aveva iniziato bene, tra l'altro un gol neanche troppo difficile, qualcuno, infatti, diceva, era un gol molto facile, poi De Keteler abbiamo visto che ha fatto comunque bene, gol di Immobile, gol di Zortea, che poi è andato via, Candreva Belotti, vi parlavo prima di Candreva, che è segnato anche in Coppa Italia, Candreva ha iniziato con gol in Coppa Italia e due gol alla prima partita all'Olimpico, è vero che lui, Roma e Lazio, di solito le castiga spesso, però, insomma, poi dopo, durante l'anno, ha fatto, per quello che valeva, che poi ha dimostrato di valere la Sermitana, lui è stato quasi sempre uno dei migliori, però, insomma, non ha segnato ogni settimana la doppietta, Belotti ha segnato quei due gol, e perché comunque in quel momento non c'era ancora Lukaku, e quindi, in quel caso, sì, forse si poteva immaginare che Belotti sarebbe andato a calare, però, insomma, inizia con una doppietta, e quindi era positivo. Immobile, Amquist, appunto, lo stesso di Francesco, se vogliamo, Immobile segnerà anche nella terza giornata, e poi andiamo a vedere le ultime, insomma, beh, GV e Pulisic, Pulisic già aveva visto, per quello vi dico, fuorvianti in alcuni casi e meno in altri, e rabbioso, e vogliamo, non ha fatto la stessa stagione, è iniziato già con un gol dopo quella dell'anno scorso. Questa è l'altra giornata, la seconda, e qui già vediamo qualche indicazione diversa, nel senso che nel Lecce segna Rafia, segna, anche se c'è scritto Cafiama, comunque Rafia, segna subito Kostovic, che poi però, durante la stagione, in realtà, si è fermato tanto. Poi vediamo anche il gol di Duncan, che comunque ne ha fatto qualcuno, però, insomma, segna la prima giornata, già si brucia uno dei pochi gol che fa. Il Milan stravince col Torino, e lì segnano più o meno quelli che ci aspettiamo. Nel Frosinone, appunto, a Rui, a Rui, come dicevo prima, ha segnato, tra l'altro, segna anche Zapata, prima di andare poi al Torino. Quindi, comunque, a Rui, in quel momento, era un giocatore, ad esempio, ecco, quello discorso che vi facevo prima, date a Rui, dicendo il rigorista del Frosinone, dicendo segna tantissimi gol, in realtà da Rui ha avuto una bella media voto, il problema è che ha giocato dieci partite, insomma, perché purtroppo ha avuto anche degli infortuni. Quindi, in realtà, poi, lì ha inciso anche quello. Poi, l'esplosione di Sule, a Rui, di che dire, insomma, come titolare, gli avrebbe tolto, forse, secondo me, anche il ruolo da rigorista, che è comunque un qualcosa, sicuramente, in meno. E poi vediamo, appunto, altre indicazioni, la Duda, Ngonge, il gol di Awar, vabbè, Ngonge è ok, fino a che è stato al Verona andava bene, Duda, fece quel gol comunque, mettendo a nudo le problematiche della Roma di Mourinho, già la seconda giornata, e segna ad esempio Awar, che in realtà, le poche volte che ha giocato, non aveva neanche fatto malissimo, però, insomma, se due partite segna già Awar, noi pensiamo sicuramente in positivo. Segnò anche Retegui nella vittoria del Genoa alla Lazio. Qui vediamo, appunto, anche il gol di Di Lorenzo, che poi non ha fatto benissimo tutta la stagione, e invece era considerato uno dei difensori che è il nostro ristone, insomma, era nei primi tre, se non sbaglio, era il terzo dopo Teo, Hernandez e Di Marco. E quindi, con tutti quanti, ovviamente, pensavano a Di Lorenzo, versione Scudetto, e segnò la seconda giornata, quindi tutti si aspettavano che potesse continuare, invece poi è stato molto negativo. Il gol di Samarzic, insomma, con lei, che segnò anche Dia, non Diaz, e poi, vabbè, però Dia lo sappiamo che ha avuto anche altri problemi, però diciamo che comunque ancora la seconda giornata ci davano delle indicazioni che poi non si sono rivelate giustissime. La terza già è leggermente più vicina, perché poi, appunto, segna Berardi, segna Pinamonti, Berardi poi ha avuto gli infortuni, quindi anche lui per altri motivi continua a segnare Giroud, continua, tra l'altro, segna anche Spinazzola nella Roma, quello magari un po' più propriante, il primo gol di Zirze. Se vogliamo, Luisa Alberto Zienischi-Kamada, non è stato, tra l'altro, Kamada con Sarri, quella fu veramente l'unica partita in cui fece bene, poi dopo con Tudor fece molto bene, ma, insomma, per Tudor abbiamo dovuto aspettare aprile o fine marzo, insomma, comunque parecchio tempo. Però, come dicevo, appunto, la terza giornata già leggermente, vedo cose meno strane, insomma, Ederson comincia a segnare Scamacca, vediamo altri gol, comunque, di giocatori validi, continua a segnare Chiesa, segna Danilo, ad esempio, che potrebbe essere un qualcosa a sorpresa. Diciamo che le prime, segna ancora Crestorich, segna strefezza su rigore, e, diciamo, la terza giornata è già un po' più verso la normalizzazione però, se avete visto le prime due e la Coppa Italia, che non vi ho fatto vedere, ma vi ho raccontato, diciamo, a voce, ci fa capire che comunque non deve essere che c'è un... quando si dice calcio di agosto non significa solo giocare contro i dilettanti che ormai si fa, ormai a luglio, in realtà, ma significa anche comunque che ci sono alcune squadre che non sono rodate al 100%, ci sono, per esempio, l'anno scorso è partito benissimo il Frosinone, è partito benissimo il Lecce, tra l'altro, anche l'anno prima, poi pian piano sono anche calate, poi nel finale si sono... il Lecce si è ripreso, il Frosinone un po' meno perché poi alla fine è retrocesso, anche se poi ha fatto comunque un gran numero di punti, bisogna dire la verità, ha avuto anche un po' di sfortuna, forse, nel finale. Però, appunto, vedete che abbiamo visto giocatori che hanno performato benissimo, e altri un po' meno, per esempio, mancano alcuni gol di qualcuno, di qualche giocatore importante, di Faraskelia, che non ha segnato le piaggiate, poi pian piano ha cominciato a segnare, tra l'altro, se non sbaglio, qualcuna di queste tre partite l'aveva anche saltate, ma vado a memoria, sinceramente, insomma, alcune indicazioni, il primo gol di Zirzi arriva alla terza, ci sono alcune, anche di Scamacca, arrivano comunque dalla terza giornata, anche se poi, forse la prima neanche l'aveva giocata, sono squadre ancora incomplete, ecco perché, appunto, le guide che vi sto facendo sulle squadre sono arrivate un po' più tardi, perché, comunque, siamo ancora col mercato aperto, squadre che non complete, come detto, e quindi, questo si ripercuote anche le viaggiate, quindi la conclusione di questo video significa che non sono importanti, ovviamente, le prime giornate, sia se giocate, sia se iniziate dalla prima, sia se iniziate dalla terza, dalla quarta, a fine mercato, però non sono, possono dare delle indicazioni fordianti, quindi non andate in panico se qualcuno non segna, oppure non fate scambi strani, tipo Lautaro, per Djuric, perché magari Djuric ha fatto tre gole e Lautaro zero, e quindi, un po' più di equilibrio, valutare queste prime tre giornate, soprattutto le prime due, perché la terza in realtà arriva già a fine mercato anche quest'anno, insomma, mercato aperto, ma poi, comunque, le squadre sono praticamente già un po' più complete, rodate, hanno giocato già due partite di campionato, quindi, questo ci fa capire, questo, ma anche gli anni precedenti, che non vi ho fatto vedere, ma insomma, ce ne sono di episodi importanti, raccogliere le indicazioni, è giusto, raccogliere le indicazioni anche della Coppa Italia, è giusto, però, non sono verità assolute, come dimostrano, appunto, questi dati. Spero che vi sia utile questo video, che vi abbia fatto riflettere su qualcosa su cui magari non avevate pensato, e vi ringrazio quindi per averlo visto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ciao a tutti.